Siete amanti della porta importante? Davvero in legno massello? I nostri abili artigiani realizzano ancora con un metodo tradizionale proprio le porte che avete in mente per casa vostra, che ne fanno anche sul vostro disegno. Qualsiasi tipo di legno, qualsiasi disegno, solo il meglio dell'arte povera. Porte di grande fascino e prestigio con le finiture antiquariato e i preziosi dipinti artistici ad olio. Perché accontentarvi di una porta quando potete avere una Mazzitelli? Bah, porto d'è. Mazzitelli, la legge della qualità. Mazzitelli, la legge della qualità.